Il sistema di monitoraggio punto cieco fornisce assistenza quando si cambia corsia monitorando i punti ciechi delle corsia adiacenti dietro al veicolo. Se un veicolo entra in questa zona di rilevamento, l'indicatore si accende sullo specchietto retrovisore esterno corrispondente. Se si segnala un cambio di corsia in quella direzione, mentre un altro veicolo è ancora nella zona di rilevamento, l'indicatore luminoso lampeggia e viene emessa una segnalazione acustica. Il livello del volume della segnalazione acustica può essere regolato tramite il menu impostazioni sul display centrale. Il sistema è operativo quando la velocità veicolo è superiore a 30 km orari e l'interruttore BSM sul quadro strumenti in basso è attivato. Il sistema monitoraggio punto cieco non sostituisce una guida sicura. Inoltre, questo sistema potrebbe non essere in grado di rilevare cicli, motocicli o pedoni presenti nella zona di rilevamento. Fare riferimento al manuale di uso e manutenzione per ulteriori informazioni.